Superlega volley maschile. Superlega volley maschile regala come sempre grandissime grandissime emozioni. Incredibile ma vero. Monza va a vincere 3 a 2 al tie break dopo essere stato in vantaggio per 2 7 a 0 sul campo dell'Itas Trentino campione d'Italia. Lei spugna e va in finale. Nonostante l'Itas Trentino rimontato da 2 a 0 a 2 a 2 grazie a un grandissimo Lavia. Monza espugna il campo dei campioni d'Italia e va a giocarsi la finale. Per Trento comunque c'è la grande soddisfazione di doversi giocare la finale di Champions League sperando che si riesca a portare a casa un grandissimo risultato e tenere l'Italia portare l'Italia sul tetto d'Europa. Comunque il livello della pallavolo maschile italiana è veramente al top.